Ciao ragazzi, sono Pingu e benvenuti qui in questo nuovo video oggi siamo di nuovo qui con Transfer Market e questa volta invece tenteremo, essendo la telecamera mi tiene a fuoco di indovinare la valutazione delle carte di FIFA 22 se mi vedete vestito come l'altra volta, come vi ho detto appunto nell'ultimo video lo sto registrando subito di filler e sto registrando anche un altro video che non so quando uscirà e sarà sempre sulle valutazioni ma non vi dico di cosa, potrebbe essere anche di un altro campionato, sempre della Serie A lo scoprirete, quindi io direi di non perdere altro tempo e iniziare immediatamente ci becchiamo subito dentro, eccoci qua allora Luc de Jong ha 79 allora la valutazione è sicuramente 22 di Wissam, ben gli è dare più alto o più basso di quella di Luc de Jong allora in teoria dovrebbe avere 84 mi pare, quindi sicuramente più alto ok infatti è 84 su FIFA dovrebbe essere più preparato Toni Kroos più alto è 88 ok poi Harakuyo 79 o 78? 77 andiamo lì, è più basso e il Papu più alto è 84 85 ok va in alto più basso perché è 84 ok e Rai Sao 82 si ok Aguar più basso 80 81 81 ok Suarez a 88 mi pare che è di sopra bene dai 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 che qua stiamo viaggiando più facilmente Sabitzer è più basso 84 si bene dai 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 delle agli orca più basso sicuro 79 pare perché è crollato no 80 perereo è più alto 84 85 84 ok bene 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 qua viaggiamo qua viaggiamo senza problemi Madison 82 bene 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 Giorginho è più alto 85 si 85 bene bene qua facciamo il record mondiale non ci fermiamo più Rakitic 77 tipo più basso no 82 82 Rakitic non so se è molto più oh lui sicuramente più basso ecco qua adesso so non nemmo niente sto calzando 79 81 uuuuh comunque più basso Casmiro 89 quindi più alto grilis dovrebbe essere più basso non so si no 84 dovrebbe essere grilis si 84 bene siamo mostri bernardeschi 78 tipo stanno andando fatemi sapere nei commenti quanti ne sapevate Perisic il mio cuginetto adottivo qui patato quanto mi mancherai 81 ok sicuramente rivedo Rudy Puig 70 76 ok non so chi è 100 2 Davisilva buca mare scusate ma il caro davisilva sicuramente più alto non so quanto 85 Davisilva Malen 79 quindi più basso 80 scusate 79 Lewandowski 91 92 ok Allan più basso 83 ok sono mostri le so tutte Soyuncu 88 88 80 comunque basso 80 vedete le due e bandiera questo è quindi più alto 83 84 non mi ricordo 84 cavolo siamo 26 martial più basso 81 si ok 78 quindi più basso bene bene sono mostro le so più bene sono mostro cavolo oh cavolo più basso no 81 ins non lo più basso vabbè 28 per essere il primo tentativo non è assolutamente male proviamo subito a migliorare dai sarà impossibile però ci proviamo dai barilla che fa giustamente l'italiano proviamo se riesco a farlo come copertina grazie a barilla ti passo 89 parche guardate ah scusate sempre su sommo sono corretti o reina di meno non so 79 76 vabbè è meglio di poco reina ostigarn 83 82 questo è che c'è che li confondono con quelli del altro anno sanchez di meno tanto dacci tu a sanchez no zuma di meno dai non può avere più che zumba più scusate c'è zumba più valore di mercato di sanchez più valore di valutazione di sanchez ok sull'ipa lì 86 ma c'è molto c'è 86 dai caldo ora che ce l'ha visto prima che 82 dai voglio il record voglio il record e chiudiamo l'episodio più verratti fino a che non faccio il record non chiudiamo l'episodio 6 giorni di meno di meno abbiamo visto che 80 se capita le stesse sono più felice più 84 dai 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 perché qua siamo in fire poi è facile di meno di poco eh punto 83 nulla 87 bravo tommasino file dunke quando c'è 82 82 82 perché mi ricordavo che era 80 Don't freeze c'è no perché 82 perché ha preso 2 if è diventato 84 86 82 ok Mike Mignon 84 Tincenco 79 81 non mi ricordo 80 giusto è quell'unico che non ho detto chiaro sempre così DeFi 84 85 punto Alizzo a 90 non so perché 9 golana 81 ecco la maglia il cagli che diavolo è questo più basso meno male andamici avevo 80 sempre bravo Samira più basso Brozovic 84 mi pare che c'è sull'altro bevono tentato questo moreno la mia copartina del video voglio anche questo i miei due croati più basso indecente secondo me peris che abbia solo 81 sinceramente carlo 85 infatti io spero che il prossimo non lo fanno più alto kibbic 89 mi pare che ha kibbic più alto sicuro non mi dovevo quanto richarlison il più basso ma non mi ricordo 82 82 secco più basso secondo me è più alto non lo so giustamente il duello portoghese per me è un alto 90 o no cugna 79 come più basso bravo potrebbe essere un punto record 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 dest presto io non mi ricordo se 78 81 questi due numeri in me vedo sul primo più basso 76 80 80 bene bene ora ne facciamo 1500 di più anche nettamente di meno 79 bernardeschi 79 c'è bernardeschi mount di più 83 giocchi giocchi iocchi non mi è meno 78 no 81 se c'è la televisione scusate che diavolo che non si spegne non si spegneva la televisione si è aperta la televisione xalberto ne ha di più 84 da ho visto che di meglio è record del mondo record del mondo 84 85 le avrai 78 79 perché qual è di meno 78 ok siamo a 40 chi più marvellone cavabing abbiamo visto 78 comunque di meno grazie non c'è una cosa ringraziamo la telecamera che mi ha appena messo fuori fuoco tanto non l'avrete visto brain white più alto la 42 vabbè ragazzi io direi che possiamo concludere qui l'episodio comunque non è andato assolutamente male quindi vi ringrazio per la visione lasciate un like un commento iscrivetevi se ancora non l'avete fatto attivate quella santissima campanellina vicino al tasto iscriviti tanto a voi non costa nulla e a me mi fate un regalo pazzesco non chiedo tanto adesso che sto registrando siamo a 19 iscritti io vorrei chiedervi se entro Natale riusciamo ad arrivare a 50 almeno non chiedo a a 1000 come servirebbe per la monetizzazione e tutto 50 iscritti entro Natale almeno se arrivate di più sarei ancora più felice anche perché così vi posso portare molte più cose quindi iscrivetevi se non vi vengo a cercare seguitemi su Instagram per non perdere nessuna novità nessun video nessun carneficina e ufficina insieme noi ci vediamo in un prossimo video che non so quale sarà io adesso vado a registrare un altro bellissimo video ci vediamo alla prossima sta andando a fuoco tutto non scherzo non so si era bugato lo schermo ciao ragazzi ciao